si sentirà qualche cosa questo giro si no non si sa perché come al solito qui siamo in piena sperimentazione bentornati nella serie di quasi gaming qui su campo aperto stagione 2 next gen e si è cambiato tutti quintetto per un farsi mancare proprio nulla si è buttato dentro andrei guodala sopravvissuto dalla squadra eroe della scorsa stagione era uno di quelli che ci ha condotto verso l'anello nella prima stagione del quasi gaming e il mio amico montrezl che che prende il posto di alla grande titolare accoppiato assieme a bobanone mariano vice centro di gravità permanente a grande richiesta torna alonzo ball l'avete voluto in tanti non sopportavo più patrick beverly e quindi ci sarà lui a cambiare scespo hobby white eric gordon farà anche il suo esordio c'è abbiamo un sacco di nomi nuovi a questo giro per cercare di mettere pressione ai nostri avversari timote l'uwao ha barrotto immarcabile e davis la scommessa immancabile e immarcabile speriamo cioè immancabile sicuro immarcabile uno so però vediamo e poi derrick favors l'impresa di pulizie la guardano i granchio purtroppo nick bathum e caruso è ovviamente capo quadro e si gioca fuori casa tra l'altro mi avete anche detto che cambiando la maglia cambia anche il parquet e quindi forse si dovrebbe vedere qualcosa funzionerà ora si guarda e niente signori e non ha funzionato perché non mi è riuscito di cambiare la maglia in realtà il problema che cosa c'è qui c'è l'inno nazionale chi è questa gentile signorina che canta l'inno nazionale tra l'altro inno nazionale che noi non si sente una mazza mi sembra di capire fatemelo alzare un pochino e quindi l'hanno troncato di netto ma va bene aspetta che riabbasso io non lo so signori ho dei grossi problemi di audio abbiamo dei grossi grossissimi problemi di audio ma non è importante perché quello che conta è la sostanza come dice il nostro amico con i capellino lì di dietro capellino di jeans tra l'altro è una chicca volevo dire anche dal punto di vista della moda e del fashion style noi non ci facciamo mancare niente montresl herrell lo vedete qui inquadrato è il nostro nuovo uomo di punta questo è marrone in panchina montresl herrell c'ha la valutazione più alta tra tutti i nostri a pari merito con victor o ladipo riuscirà a darci un qualche cosa sotto canestro accoppiato con il centro di gravità permanente lo sapremo dopo che avrò cambiato la visuale cobi cobi stagli addosso che codesto tira si è cominciato male io ve lo dico subito i piccherolle tra o ladipo e bobanone si butta dentro ladipo chiude cimi basler forzatura di o ladipo rimbalzo di hennard cespo eh ma t'hanno sradicato cespo t'hanno sbarbato di fefiedi non c'è rimasto niente tiragli tiragli godala il primo fosse godala però anche se cespo c'è un aiuto su cespo un aiuto su e ragazzi così si perde contro wall cioè wall sei noi niente ovo il piccherolle tra lunghi edizione montresler l e bobanone marianovic si butta dentro montresler in palleggio la virata di montresler sei tosto però tu pai un torello fallo subito da bruc lopez ci avrà due tiri liberi un mette bene però montresler coi tiri liberi eh ha visto ci ha pensato mezza giornata ma poi l'ha messo ma lunga ma questa è ma figura di te se fa due su due non è proprio previsto il codice di gioco archeduno su cennard ragazzi e si è preso un'imbarcata e roba da chiodi e appena cominciata la partita siamo belle sotto di una marea non va o ladipo ma c'è ancora bobanone marianovic insormontabile invaliabile rimbalzo d'attacco due alla tabella e meno sei no 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 non ci si può fare e qui c'è il granchio in panchina che se la ride granchio e t'ho levato perché non tu facevi nulla però non te la puoi rifare con il poro cespo il quale poro cespo va detto a un orde vero che non sta difendendo niente montrezl c'ha questa cosa e parte in palleggio e perché lui si crede skip to my loo e fortunatamente un po' di falli li porta a casa vedi a mesi secondo ma perché aveva sbagliati primo i cinesi non si smentisce mai e i guadala va bene va bene i guadala però sei arrivato tardi e soprattutto se non mi sbaglio c'è wall che è già in doppia cifra abbiamo un grosso problema di marcatura su playmaker avversario buono buono l'invenzione di hobby white per l'affondata di victor o la tipo un fosse che siamo sotto di una marea si sarebbe fatto anche una bella azione oh non ci voglio crede se è difeso sui pick e roll siamo riusciti a recuperare e poi ci si dimentica di kennard vai cespo forza ragazzi e la partita è appena cominciata ci sarebbe montrezl sotto canestro con una buona posizione contro blake griffin già perché loro ogni frattempo ridendo e scherzando siccome noi si è aggiunto un silver hanno pensato bene di aggiungerlo anche loro per non rimanere indietro coby white proprio contro il silver contro blake griffin appoggia due alla tabella primo segnale di reazione da parte nostra time out brooklyn nets o questo che c'ha una cassetta dell'attrezia a posto della telecamera allora è entrato l'onzo ball in tutta la sua capigliatura splendente insieme anche a davis la scommessa e derrick favours che il primo pick e roll lui l'ha guardato spettatore non pagante eh favours si comincia bene ma tanto a noi non ci interessa perché noi abbiamo proprietà di palleggio con i lunghi e roba da matti primo pallone di eric gordon subito la mezza transizione contro chiorba eric gordon ti sei messo a guardarla è arrivata la scommessa e davis ancora attaccare stavolta lui contro chiorba trovato l'onzo ball centro dell'area dalla lunetta mancano otto secondi ribaltamento fettimose luauo habarrot di mentre che ho detto il nome è finito il tempo tira sbaglia rimbalzo di zubac bravo bravo l'onzo bravo l'onzo forza eric gordon non la puoi sbagliare recuperati il pallone l'onzo eric gordon dalla media il meno 6 una squadra di scappati di casa l'onzo se detto è per l'attacco ragionato lui gioca sui 24 secondi prima di 22esimo secondo non ne vuole sentire parlare ai 22esimo secondo tira una sfingardata contro il ferro e non chiappa niente è finito il primo quarto un si sa come ma siamo ancora vivi noi sa le idee chiare infatti si ricomincia con i guodala da playmaker che trova cespo in uscita dai blocchi marcato da john wall arriva il blocco di bobanone si butta dentro pimo passo fulminante di cespo e però poi sbaglia l'appoggio bobanone prova a dare noi a palleggio di john wall e si rientra fortunatamente in tempo in guodala non tu non ha fatto nulla fino a questo nome io piglio tempo ragiono chiacchiero ma il discorso sta in poi posti non hai fatto niente mentre john wall qualche cosina l'ha fatta c'ha tipo 30 punti metti te e sei un po' arto bobanone sei un po' arto sia di centimetri che di ricezione da costi sei un pochino poco pericoloso si lavora per l'uscita dai blocchi di victor o la dipo contro che narda è importante sul secondo ferro gira e esce il pallone rimbalzo di blake griffin comunque non è vero è che i guodala si scansa in questo modo non è vero poi gli ha fatto anche fallo quello ci può restare c'è stata una compenetrazione con l'arbitro e roba da chiodi però non è vero mai che non difende niente così vero marrone diglielo questa è la prima ricezione spalle a canestro di bobanone contro bruc lopez finta che tiri finto lo porta via pareva il tornado varnado ne ha appoggiati due alla tabella meno 9 montresle sei in coppia con i guodala fate chi si è visto meno dagliela dagliela la seconda ricezione dagliela ma perché ragazzi ma cosa si pensa di fare con montresle l'errel lassù la logo tripla di montresle l'errel eccola lì la metterà secondo me no bobanone da dietro gli ha preso un rimbalzo che non era suo neanche in un'altra vita abbiamo un altro possesso non bisogna sprecarlo 6 secondi 5 scespo si butta dentro contro la difesa regge wall arriva bruc lopez bobanone deve forzare c'è un fallo è cascato in terra pare la torre di babele ma ti pare che casca da solo vai vai vic niente ti sei fatto chi appare victor è arrivato i guodala che ha fatto la prima cosa buona nella partita però bisogna far canestro vi siete intruppati al centro dell'area i guodala contro jimmy butter adesso rafforzerà perché tanto lo conosco ho trovato montresle lo puoi battere fisicamente montresle puoi giustificare i tuoi 82 non fare come pascal due di montresle contro la mieti trebbia contro la maledizione della mieti trebbia vedi vedi che bobanone è sempre lì hai rischiato hai rischiato tantissimo jimmy butter te è andato accontentati che hai soltanto sbagliato il tiro potevi finire in analisi per una vita ma perché noi si gioca questi quarti di campo per i guodala che non ci mette mano cioè non mi sembra una grande idea questo ha fatto anche a nesro mi basta di ne male vada come surta l'onzo bolle in panchina o quanti se ne cambia 15 tiello tiello l'onzo tiello hai difeso bene bravo l'onzo ma ti pare che io possa fare i complimenti a l'onzo che è il miglior giocatore della squadra in questo momento l'onzo bolle per la scommessa 8 a 0 di parziale meno 3 abbiamo una partita badalo come picchietta sui parquet forza l'onzo prossima volta titolare se continui così il rimbalzo di l'onzo il dominatore dell'aere sarà contento la varone bella palla bella palla di eric gordon per derrick favors all'impresa di pulizie meno uno con tutta la panchina in campo roba da matti questa cosa che proprio a lui non gli riesce ma c'è l'onzo da dietro che prova a recuperare difensivamente grande intervento stavolta anche di derrick favors ragazzi abbiamo l'inerzia a favore bisogna spingere ora sull'acceleratore l'onzo bolle contro reggie jackson il palleggio tra le gambe poi vuole andare spalle a canestro riapre contro eric gordon c'è chi orba con il depresso ma a noi non si attacca perché ci sa è davis in palleggio pick and roll tra i lunghi con favors ancora è davis 4 secondi 3 deve forzare l'onzo fino in fondo il canestro e fallo di l'onzo bolle che segna e ci avrà anche il tiro libero per portarci in vantaggio sul 22 a 21 ma che giocatore sei l'onzo bolle dove sei stato fino a ora c'è capoquadro e un si ritrova ora ho capito ragazzi questo c'ha il depresso c'ha il depresso non si può fa fare una cosa buona a uno con il depresso con il segnale di depresso capite dai tiragli eric gordon in uscita dai blocchi la tripla di eric gordon più due ci abbiamo un sacco di opzioni offensive va bene va bene c'hai il depresso e non può fa canestro rimbalzo dell'impresa di pulizie questo secondo quintetto ci sta dando delle gioie mancano 5 secondi l'onzo bolle trovato eric gordon ha appena segnato se è proprio impastato direttamente nelle mani di difensore finisce qui 25 a 23 intervallo della partita oh siamo avanti e com'è com'è non è gli si è dato del filo da torcere vedi l'onzo bolle con le piccole osse contro un john wall devastante soprattutto nel primo quarto però siamo lì signori mi siamo piaciuti bravo bravo gli hai tirato una randellata bravo i godala dagliela dagliela alta forza pebobanone due appoggiati e più quattro addirittura no 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 noi ci sa questo accoppiamento che proprio non può sussistere capito marrone ci sarebbe da fare sì ma che te lo spiega fa vai hobby vai prenditi la tua rivincita contro john wall ti sei fatto impaurita brooke lopez brooke lopez parecicio bello quanto a intimidazione difensiva vai scivolamento scivolamento buona difesa di i godala questo è il vero i godala ora siamo finiti in un mismatch brooke lopez contro victor o la dipo loro non se ne accorgano tirano da treco wall e ha fatto sempre canestro sbaglia rimbalzo di montresel forza ragazzi forza ma che cos'è i godala i godala col circuit shot pareva danilo gallinari i godala non ne hai manco visto la targa dentro dentro picchiettare il pallone come la dinamo sassari vai boh boh banone ma una mano cadendo indietro c'è cespo però il rimbalzo in attacco era uno schema tipo holly e benji più quattro no dove dove vai dove vai dove vai dove vai vedi 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 di spalla come se la gioca spalla canestro montresel herrell parea damon williams dove vai dove vai sei piccino non ti si vede neanche ma come fai a facco desto difesa di e davis contro chiorba lo costringe a un tiro difficile rimbalzo della scommessa vedi 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 quando c'è l'onzo le cose come cambiano rimbalzo dell'impresa di pulizie l'onzo ragazzi fino a questo momento è stata la chiave di volta della partita ci sarebbe eh però l'onzo però l'onzo ma allora ti sei emozionato t'ho detto troppo bene e questo sarà fallo no ma i poro timote lu guauo a barrot ma i chedefa e c'aveva tutti i cognome sistemato proprio dritto fermo gli è venuto addosso niente comunque io farei tipo ecche chiunque in questa in questo gioco perché tanto più di un tiro libero non lo mettano se proprio proprio gli dice bene se no fanno anche 0 su 2 cioè praticamente si vincerebbero tutte le partite con l'ecche chiunque vedi vedi timote con la gambina alzata bravo gli hai fatto anche trash talking alla panchina va bene più 3 l'onzo è difficile è un mismatch l'onzo se mi tieni questo diventi l'mvp della partita vai l'onzo va eh l'onzo niente ultimi 10 secondi del terzo quarto che comunque se retto botta anche a questo giro eric gordon l'uscita dai blocchi di lonzo non lo serve vuole forzare gordon importante da 3 la sua non va il rimbalzo di derrick favors ma è finito il tempo più uno occhio 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 c'è mancato niente no no ragazzi no bisogna trovare una soluzione a wall in tutti i modi perché se no noi si perderà sempre buono buono vedi bobannone che sei enorme no 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 ci ha cucinati a fuoco lento john wall tiragli tiragli victor è importante chilometri o la dipo hai fatto schifo stasera cespo anche te non tu non ha fatto nulla in questa partita io non ve lo volevo dire ma siamo sotto di 3 ci sarebbero ancora delle possibilità ora dipo il tiro al piccione manco stavolta bobanone bobanone da dietro gli han fatto paura forza ragazzi forza che si sarebbe ancora vivi i guodala in mezza transizione contro john wall tiene una volta tiene due volte il tiro è difficile ma è il suo niente questa cosa che noi ogni tanto bisogna pigliare e dargli un pallone in mano però da noia eh la palla è buona la palla è buona per bobanone contro bruc lopez raccoglie il palleggio semi gancio col piede sbagliato bobanone marianovic il meno 3 siamo dietro siamo dietro siamo dietro mi è arrivato ancora dipo ni quarto quarto a un minuto dalla fine grazie o la dipo grazie è un possesso fondamentale ragazzi bisogna provare a tirareci fuori due punti i guodala contro jimmy butler trovato la dipo che ha appena segnato grande passo di incrocio di victor o la dipo che non si è potuto guardare per tutta la sera ora ha fatto 4 punti consecutivi fondamentali meno 1 a 1 e 30 dalla fine e si fa passare wall un'altra volta vero cespo? però vedi che collecca wall qualche cosa si sarebbe tirata fuori ci sarebbe ci sarebbe ne ha appena messi 4 in fila o la dipo era fondamentale era la tripla del vantaggio lo devi tenere lo devi tenere cespo cespo gli devi da noia bisogna recuperare a palla kennard contro i guodala mancano 6 secondi blake griffin contro montresla arriva il blocco di bruc lopez girati bobanone girati se chi ha padani capo e poi nell'ultimo quarto o la dipo non fa prigionieri ancora in meno 2 è importante importante bobanone bobanone e ora diventa quasi impossibile ci hanno mangiato con due picche roll sul finale victor o la dipo contro bruc lopez trovato montresla mancano 11 secondi c'è bobanone contro kennard se lo mangia vivo ne mette 2 meno 2 bisognerà probabilmente andare col fallo sistematico anche se loro non possono arrivare fino alla fine fallo di o la dipo su kennard due liberi e però ora il discorso dei liberi gioca a nostro favore perché tanto loro due su due non lo possano fare si è detto proprio matematico il primo l'ha messo quindi questo lo deve sbagliare niente manco la gufata gli funziona ci vuole un canestro rapido ragazzi io andrei da o la dipo che mi pare quello un pochino più sveglio in questo momento della partita mancano 22 o la dipo ed è attacà o la dipo arrivati blocco di bobanone si butta dentro o la dipo ci sarebbe bobanone in ricezione ancora marianovic contro tutta la difesa era o la dipo ovviamente non marianovic meno 2 ci vuole un altro fallo non andrei su buono buono così va bene va bene ragazzi ci sa 13 secondi si sono finiti i time out si può tirare per portare la partita all'overtime victor o la dipo i guodala è importante è esperto non va rimbalzo di bobanone ancora i guodala per il pareggio l'overtime niente ancora bobanone ritiragli victor da 3 per l'overtime ma come si fa ragazzi ma come si fa bobanone ha preso tanta rimbarsi non c'è stato verso di butane dentro uno ma come si fa già così ma dov'è jj ready che quando serve 1 su 15 da 3 punti si è tirato 1 su 15 7% ma come si fa a vincere con i 7% miglior realizzatore della partita è john wall che ne mette 23 tutti tra l'altro ogni primo quarto praticamente poi qualche misura gli si è presa ma niente di particolare 7 di zubac ai rimbalzi ma ce ne sono 9 dell'insormontabile bobanone marianovic negli assist ce ne sono 3 di lonzo ball e 3 anche di hennard nei recuperi 2 di jimmy butler noi non ci sa nessuno nelle stoppate una di marianovic una di herrell una di griffin e una di zubac e quindi un'altra sconfitta signori miei è la quarta in fila e va bene che vincendo magari le prossime due o comunque vincendo le due si torna a pari però bisogna cominciare a vicele perché siamo sotto di una marea 79 89 99 109 119 129 siamo sotto di 60 punti e siamo vicini ai doppio e la metà questi invece sono i migliori statistica per statistica spicca la presenza di bobanone marianovic in vetta alla classifica dei rimbalzi e comincia a recuperare posizioni anche per quel che è il titolo la corsa l'mvp controllata ancora da john wall come vedete su vostra richiesta ho reinserito gli all time record quindi non soltanto i massimi in stagione ma in generale nella storia del quasi gaming il record più longevo sono i 4 recuperi il 5 dicembre 2019 di margasol invece per questa stagione si qualifica ad eric favors l'impresa di pulizie o i suoi 17 rimbalzi presi i 13 di gennaio detto questo si va anche a questo giro alle estrazioni e loro ce ne hanno 4 noi ci se ne ha 8 ma poco cambia perché di solito noi non si pesca mai nessuno eh? no no ma un altro silver e poi proprio lui tra l'altro no un so se essi contento o no in realtà perché lui potrebbe fare la talpa potrebbe remagli contro conoscendolo un disastro praticamente un disastro perché noi non si è pescato nessuno perché boh cioè forse bielizza si potrebbe pensare di inserire bielizza però al posto di chi magari di batum si aggiunge un alla grande di ruolo boh ma non è che cambi troppo è che loro hanno pescato un altro silver ora il discorso è questo sicuramente loro lo inseriranno al posto di Aaron Gordon perché la prima cosa buona è che quantomeno non lo possano tenere perché ce ne hanno già 5 quindi uno lo devono eliminare la cosa negativa è che comunque Aaron Gordon partiva dalla panchina quindi di fatto loro con Booker da guardia completano il quintetto di silver la cosa buona è tutta un'altalena è che Devin Booker è Devin Booker e quindi non difende e l'altra cosa buona soprattutto è che non si pole più pescare noi fortunato questa è l'unica veramente cosa buona di questa estrazione che non si pole più pescare noi perché l'hanno già pescato loro però ci hanno un quintetto e con Lopez Griffin Butler Booker e Wall noi si tira a campà io non lo so signori purtroppo le estrazioni sono completamente casuali questo lo sapete la fortuna gira alla fine dell'anno io sono convintissimo che si farà pari e quindi prima o dopo guarderà anche dalla nostra parte magari la porta buona e la prossima si pesca Giannis si chiude baracca e per il momento però non è successo quindi fatemi sapere qui sotto quali accorgimenti prendereste voi soprattutto sulle rotazioni come fare per provare a dargli no e anche se sinceramente la prossima ormai la metterei in conto di perderla e speriamo bene e noi ci rivediamo sabato con l'All Sub Saturday su Twitch e con il quasi gaming ovviamente mercoledì prossimo e per la prossima e per la prossima e per la prossima Grazie a tutti